Torna a splendere l'acquedotto vasariano. Proseguono infatti i lavori di restauro. Si è già conclusa la prima parte che comprende 20 delle 54 arcate totali con il colore definitivo, il giallo antico, quello che rivestiva gli archi in origine. Là il colore che è stato individuato è un giusto compromesso tra l'immagine filologicamente corretta che era il semplice intonaco non colorato e quello che per noi era il giallo vasariano che è più acceso di questo. Credo che questo la sottolinei bene, questa bellissima opera idraulica e la renda molto visibile anche da lontano. Pensa già a un percorso vasariano? Dobbiamo stare attenti al percorso vasariano perché poi le frequentazioni qui sotto vanno sempre tenute sotto controllo visto che siamo in una città in cui la maleducazione è imperante. Comunque faremo in modo che quando è aperto sia anche controllato. Il cantiere a questo punto è arrivato a metà, i lavori dovrebbero concludersi entro tre mesi. Già restaurata anche la prima parte interna, quella della conduttura idraulica che porta l'acqua alla fontana di Piazza Grande. Sono state già restaurate più di 20 arcate, le arcate cominciano ad alzarsi dalla parte da dove emerge dalla terra fino a via Tarlati, rimane l'ultima parte e nell'ultima parte spero di riuscire a farla attraverso la ditta che si è impegnata tra luglio, agosto e settembre. Infine i lavori di restauro hanno fatto emergere anche ulteriori pagine di storia retina. Nel tratto rimasto da restaurare sono state infatti individuate delle fratture murarie causate dall'abbattimento di tre arcate attuato dai tedeschi nella loro ritirata durante la Seconda Guerra Mondiale. Uno delle prime opere dopo la liberazione, quindi pensate circa 73 anni fa, proprio in questi giorni di luglio fu fatta subito una conduttura provvisoria per consentire l'acqua che arrivasse giù alla Piazza Grande. Questa c'era una memoria, c'era stata raccontata dagli anziani, però non avevamo la documentazione. Nel momento in cui abbiamo buttato giù l'intonaco abbiamo trovato le murature diverse. Insomma, quattro secoli di storia stanno scritti su questo acquidotto.